Venerdì ore 21, comodamente da casa tua in tv solo su Alpa1 al canale 117, potrai assistere al confronto elettorale con tutti i candidati a sindaco per la città di Alcamo. Otto aspiranti primo cittadino risponderanno alle domande della nostra redazione su temi attuali e fondamentali per la città. Potrai così conoscere quali sono i programmi e le proposte di chi vuole amministrare Alcamo.